Buonasera a tutti, buonasera a tutti, amici, amici di I.M. Mr. Broker Valeriani. Questa è la mia faccia sfatta dopo la partita col Verona. Vi ricordate quando io mi lamentavo a inizio campionato? Che qualcuno avrebbe affrontato Verona, Monza, eh? A inizio campionato le prime due giornate che potevano fare schifo e con noi avrebbero fatto le partite della vita. Vi ricordate quando dissi così a inizio campionato? Complimenti a che ha fatto il calendario di A solo contro il Milan mentre gli altri fanno le discese, le passeggiate, le partitelle, le amichevoli. Lo schifo, lo schifo. Perché oggi il Verona ha dato tutto, ha fatto la partita della vita, ha dato una grande prova al Mr. Bocchetti, hanno arrivato, hanno fatto i fenomeni, hanno lottato. Poi con il Napoli hanno fatto schifo. A inizio campionato hanno preso sei gol. Così il Monza, che domenica palladino è all'ultima spiaggia e deve salvare la faccia. Perché è appena arrivato, dopo aver battuto la Juve, vorrà fare la grande partita con me. Mentre poi con il Napoli hanno fatto letteralmente schifo. Ecco perché mi lamentavo del calendario che con me aveva fatto schifo. Ma a parte questo, eh? Oggi è stata una vittoria di palle, ma troppo sofferta, perché non si può soffrire così contro la terz'ultima della classe. Perché abbiamo veramente sofferto l'anima della pace che abbia fatto schifo. Io voglio lanciare un messaggio. Brahim? Brahim? Ti vuoi dare una svegliata? Stai facendo schifo, Brahim? Ti vuoi dare una svegliata? Non puoi fare una partita buona e cento da merda? Oggi è fatto schifo, ti ha tolto per la disperazione. Oggi mi ha deluso anche il mio pupillo che volevo vedere in gamba Adli, che non ha trovato una collocazione tattica. Non sapeva dove cazzo doveva giocare. Non trovava un ruolo. È stato uno scembio. Oggi Adli, mi dispiace, perché io punto molto su Yassin Adli, ma oggi è stato uno schifo. È stato uno schifo perché non riusciva a trovare una collocazione. Non riusciva a trovare un ruolo. Poi si lamentano che non giocano. Beh, forse capisco il perché. Perché hanno fatto letteralmente schifo. Oggi l'unico che salvo dei nuovi arrivi sono stati Origi, che ha dimostrato di calciare molto bene, soprattutto da fermo. Oggi Origi mi è piaciuto. Perché se Origi è questo, beh, se entra in condizione, è una buona alternativa ai titolari. Oggi Origi e Chav che sono entrati e Pobega. Cioè, Gabby è stato uno scandalo. Dietro si balla troppo. E ribadisco. Andiamo a riprendere Frank. Andiamo a riprendere zio Frank, perché quando c'è Frank, quando c'era Frank, non si soffriva così a centrocampo. Perché quando è entrato Pobega abbiamo un po' tappato il buco. Ma quando, da quando non c'è Frank, la dietro a centrocampo si soffre come che? Poi Sandrone Tonali, che è divinato la tona al Verona, continua a segnare al Verona al Bendegodi. Ma abbiamo sofferto troppo, ma ci siamo accesi al momento giusto. Ci siamo accesi al momento giusto. E oggi devo dare molti punti a Stefano Pioli, perché oggi veramente ha fatto le cose che non mi aspettavo. È partito col modulo diverso, 4-3, è passato la difesa a 3, ha azzeccato i cambi, perché Diaz ha fatto schifo, Giroud ha fatto pena. Però riparisco, non buttate la croce, non buttate la croce a Oliviero, perché senza Oliviero, il 22 maggio non si festeggiava. Quindi riparisco, lui canta e porta la croce e si sta forse un pochino stancando e avrebbe bisogno di riposare un po' di più. Ma non ci abbiamo altro. Finché Origi e Rebic non entrano in condizione, oggi Ante è anche bene. Mi è piaciuto anche Ante che è entrato bene. Insomma, oggi i cambi bene. I cambi bene. Ma voglio lanciare un appello, se mi è venuto in mente. Visto che a destra facciamo letteralmente schifo, facciamo giocare Ciala, Traore della Primavera, Quenca della Primavera, invendiamoci qualcosa. Perché a destra, ribadisco a destra, senza Messias e Salemakers, è il buio totale. Diaz ha fatto letteralmente pena. Diaz ha fatto letteralmente pena. E io come uno scemo l'ho preso a fan da calcio. Uno schifo. Uno schifo letteralmente. Perché Ibrahim forse deve capire che il 10 del Milan non può fare una partita buona neccendo di schifo. Non può giocare mezz'ora e poi fare pena. Quello fa due scatti, fa due tiri e poi scompare. A me mi fa girare i coglioni. Mi fa girare le palle. Fa due scatti, fa due cose e poi scompare. Giochi uno in meno. È impressionante. È impressionante il negativo. Io li voglio bene, ma non può fare così. Fa due scatti, due accelerazioni e poi scomparsi e è finito. Non è finito. Cioè, fa la mega prestazione con la Juve quando entra la subentrata o il gioco a titolare è una munnezza. Ibrahim sveglia. Svegliati. Perché hai fatto letteralmente schifo. Non c'era neanche Charles Dechetelare per darti il cambio. Ma è stato un massacro. È stato un massacro. Cioè, compriamo qualcuno fuori la fresca. Fuori la fresca, gennaio. Un esterno d'attacco, un trequartista. Cioè, ci sono palesemente giocatori che non possono giocare, che non giocherebbero da nessuna parte. Vedi Gabbia che può giocare solo in una squadra che lotta per retrocedere. E quando Verona ha colpito la traversa, quello marcava a cazzo. Tatarusano ha fatto bene, ma non dà quella sicurezza. Menien, grazie a Dio, torna la prossima partita o andiamo in B con Tatarusano. Ma, ribadisco, c'è soddisfazione, ma c'è preoccupazione. A gennaio fuori la fresca. Facciamo mercato. Perché non si può andare avanti in queste condizioni. Perché la buona sorte, il gruppo, una volta ti può andare bene. Quest'anno c'è il Napoli. Ti avevo detto che era pericoloso. Che finché non schiatta a marzo, come fa sempre Spalletti, dobbiamo aspettare che torna Zio, fresco come una rosa. Perché voi vi dimenticate che noi stiamo senza Zlatan Ibrahimovic e quando tornerà fresco come una rosa e riposato perché non ha giocato neanche un minuto per via dell'infortunio. Avremo un attaccante che gli altri non hanno. Non ve lo dimenticate mai. Ma oggi abbiamo vinto di gruppo, di palle. Abbiamo troppo sofferto. Dietro c'è troppa apprezzione. se non torna Mike Mignan a dirigere la difesa. A centrocampo si sente la mancanza di Frank. Si sente la mancanza di Chessy. Andiamola a riprendere. Perché il centrocampo a volte balla. Però oggi a tre mi è piaciuto leggermente meglio. Poi quando entra Isma a Benasser andiamo in tranquillità. Però oggi dei giocatori hanno fallito la prova. Adli, Brahim Diaz hanno fatto letteralmente schifo. Gabbia. Ma perché Kear non può giocare? Perché Kear non gioca? Non è ancora pronto ma serve come il pane. Serve come il pane uno come Simon Kear. Perché Gabbia è stato uno scandalo. Qualche buona cosa ma troppa troppa imprecisione. Troppi errori. Troppe disattenzioni. Alcune ci stavano costando caro. Perché se il Verona era un po' più preciso con Piccoli con con Arri con qualcun altro oggi restavamo a parlare d'altro. Abbiamo troppo sofferto con la terza ultima della classe. E io mi lamentavo del calendario. Perché quando ho detto che qualcuno l'ha affrontato il Verona inizio campionato che poteva permettersi di fare schifo. io invece lo devo affrontare nel periodo centrale dell'anno quando si gioca tutto. Così anche il Monza dove salvo la prossima partita io mi giro il cazzo perché il calendario l'hanno fatto a schifo solo per me. Solo per me è complicato. Gli altri affrontano la Sardinitana fanno le discese fanno le passeggiate fanno le passeggiate. Cioè è differente affrontare una piccola squadra inizio campionato quando può permettersi di fare schifo e a me al centro campionato quando invece si gioca tutto per non retrocedere e si gioca la faccia si gioca in un altro modo gioca in un altro modo e questo l'ho detto soltanto io che mi ero accorto in un calendario schifo che mi mette le partite tutte nei periodi crudo e gli altri ma oggi veramente abbiamo sofferto troppo cioè oggi c'è stato alcuni errori e alcuni errori di poca lucidità ecco a volte poca lucidità siamo stati poco lucidi poco lucidi specie in alcune alcune situazioni di ripartenza alcuni disimpegni un po' di brividi un po' di brividi qualiuno va bene così non arriviamo a maggio finché non torna zio non possiamo essere tutti così noi dobbiamo sperare che quando torna zio abbiamo ancora la possibilità di vincere la seconda stella di non aver perso troppi punti dagli altri dobbiamo resistere fino a quando zio non torna e li stravacca a tutti quanti e ci fa vincere la seconda stella perché noi di Brahimovic abbiamo bisogno come il pane quando butti la palla e lui la tiene quando lui butti la palla a zio e lui la tiene e ti fa l'assist ed entrano i centrocampisti e fanno gol a noi Brahimovic serve come il pane serve come il pane quindi chi lo denigra vedessi come siamo ridotti perché noi soffriamo troppo non teniamo un pallone non teniamo un pallone là davanti non respiriamo a volte non respiriamo soffriamo le folate degli altri perché buttiamo palla avanti non abbiamo la punta che la tiene non abbiamo la punta che la tiene a gennaio fuori la fresca fuori la fresca per comprare un esterno comprare un trequartista comprare di comprare Frank Chessy a gennaio fuori la fresca o cardinale out perché non si può assistere a una rosa completamente incompleta perché alcuni dei campi sono stati buoni vedi Orighi vedi 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 oggi Chav che ha salvato due gol ma oggi Brian Diaz ha fatto schifo Adli mi ha deluso che io ci scommetto tanto ma ha fatto schifo ha fatto letteralmente pietà si è impegnato si è sbattuto ma non c'era una posizione non c'era una posizione ripetisco sembrava veramente Oliver Hatton quando giocava nel Barcellona giocava in tutti i ruoli e non sapevi dove cazzo metterlo cioè deve trovare una collocazione fissa che si comincia a vagare per il campo e non va bene cioè troppo troppo fumo e niente arrosto troppo fumo e niente arrosto però ripetisco l'importanza di questi tre punti noi finché non torna zio dobbiamo tenere dobbiamo tenere il più più contatto possibile per la sosta del mondiale e tenere e tenere la classifica in quella posizione in mezzo alle prime finquanto non torna zio per lo sprint finale perché noi siamo 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 veramente dipendenti da zio perché senza Ibrahimovic noi prima o poi ci sgamano e facciamo schifo perché quando c'è Ibrahimovic giochiamo in un modo respiriamo lui ci fa gli assist crea crea problemi alla difesa avversaria cioè noi abbiamo bisogno di Ibrahimovic anche per dare il cambio a Giroud oggi Origi però non mi ha deluso che se Origi carbura siamo tranquilli io non so come chiudere questo video poi poi vedremo se farne un altro più più in là domani a mente più fredda ma è stata veramente una sofferenza stasera veramente hashtag sofferenza milano oggi veramente sarà una sofferenza e ribadisco hashtag complimenti a chi ha fatto il calendario perché Napoli ha affrontato Monza e Verona che potevano fare schifo e io invece li devo affrontare quando si giocano tutto io l'avevo detto che era così me lo immaginavo e andatelo a rivedere perché il Monza il Verona con Napoli ha fatto letteralmente schifo ha beccato sei gol ma non è stata l'unico quest'anno però adesso è una squadra diversa che oggi si giocava tutto col nuovo allenatore aveva stimoli aveva stimoli così come il Monza che domenica sabato darà tutto non sottvalutiamo il Monza non sottvalutiamo il Monza io vi saluto e vediamo un po' perché oggi si è veramente sofferto troppo oggi si è veramente sofferto troppo hashtag troppa sofferenza hashtag male alcuni oggi Pioli ha azzeccato alcune mosse vedi il cambio di modulo vedi il passaggio alla difesa a tre ha azzeccato finalmente i cambi grazie a Dio ogni tanto li azzecca però la squadra deve migliorare soprattutto in fase di lucidità siamo stati a volte ci prende troppo la frenesia abbiamo sbagliato degli appoggi dobbiamo fare il terzo gol ecco dobbiamo essere più chiudere le partite le chiudi e basta le ammazzi e non soffri e puoi anche riposare non le puoi tenere aperte perché se le tieni aperte soffri soffri dannatamente ciao a tutti